ciao a tutti sono massimo dall'olio ci troviamo sempre qui nel mio project studio allora continuano i video sulla eccomia 018 learning pack il video che vi presento oggi praticamente è un'applicazione della eccomia 018 learning in un take in studio di registrazione quindi per farvi capire che anche se il costo del pacchetto è di 160 euro e trattasi di una chitarra economica il suo suono e la sua facilità e comodità di suonare può essere anche applicata a situazioni diciamo professionali un buon ascolto e spero di esservi stato utile anche oggi ciao ciao a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.